Gesù e i suoi apostoli si ritirarono nella regione di Bezzaida. Avevano lavorato molto e volevano riposare un po', ma la gente seguiva Gesù e voleva stare al suo fianco. La sera avanzava e la moltitudine delle persone non lasciava Gesù. I discepoli gli dissero di congedarli affinché, prima di andare alle loro case, potessero comprare qualche cosa da mangiare. Gesù rispose, dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Uno degli apostoli, chiamato Andrea, gli disse, c'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Gesù chiese di avvicinargli questo ragazzo e chiese loro che si sedessero tutti sul prato. Erano cinquemila uomini, oltre le donne e i bambini. Diede grazie a Dio, lo benedì e lo moltiplicò e ne diede uno per ciascuno. Bastò per tutti e rimasero dodici ceste piene di cibo.